amiche lettrici amici lettori ben ritrovati qui su gocce di libri io sono daniela e oggi è tempo di preferiti preferiti dell'estate un video in collaborazione con stefania li voglio saperlo vi lascio anche il link al video di stefania nella descrizione del video qui nell'info box anch'io sono curiosa poi di andarlo a vedere per capire quali saranno stati anche i preferiti della stagione di stefania sono 11 domande che sono sempre le stesse di stagione in stagione con cui speriamo di farvi compagnia insomma un po diverso dal solito format di libri ma anche di libri si parla ovviamente quando si parla di preferiti tra i lettori allora la prima domanda film serie o programma tv favoriti allora io devo andare un po indietro perché in privavera mi ero dimenticata di questa serie netflix che ho amato tantissimo ed è intitolata semplicemente ripley un'altra interpretazione del libro il talento del mister ripley e che poi è stato uno dei miei film preferiti non ho mai letto il libro e negli anni 90 credo fosse uscito questo meraviglioso film girato in sud italia con jude law mac damon gwyneth paltrow e a me è piaciuto tantissimo quel film e le sue atmosfere ecco la serie di ripley è completamente l'opposto con un'ambientazione molto noir in bianco e nero tra l'altro e il personaggio interpretato da matt damon appunto tom ripley è veramente molto inquietante io ho amato molto questa serie anche se è totalmente diversa dall'amatissimo film ora sono veramente curiosa di leggere il libro perché voglio capire a quale versione cinematografica televisiva il libro si avvicina di più quindi credo che non so se entro la fine dell'anno o sicuramente l'anno prossimo voglio leggere questo libro poi come non citare quest'estate le imprese degli italiani presenti alle olimpiadi a parigi insomma figuriamoci se non ero attaccata la televisione ma comunque voglio citare su tutte le vittorie delle ragazze della palavolo e le ragazze del tennis sarà errani e jasmine paolini perché ho seguito praticamente tutte le partite sia della palavolo che del tennis e quindi sono molto felice dei successi di tutti gli attretti italiani in realtà e parlando di tennis ovviamente devo anche fare complimenti al nostro yannick sinner per aver vinto gli us open il tennis è una disciplina che io adoro guardare in televisione e quindi quando è possibile insomma non mi perdo una partita e qualche volta le registro anche poi va le guardo velocissimamente tra un game e l'altro mando avanti la registrazione poi un altro paio di notazioni mi sono fatta qui ed è mentre ero in volo credo al rientro dagli stati uniti ho visto il colore viola e io ho detto a un sacco di tempo che non lo vedo ma lo rivedrai volentieri perché mi ricordo mi era piaciuto molto e più andavo avanti nella visione del film è più detto ma quando arriva offre winfrey quando arrivano fra winfrey e praticamente non arrivava mai poi alla fine mi sono accorta che questa è una versione nuova del film e mi è piaciuta tantissimo era una specie anche di musical non so se poi fosse uscita in italia o meno comunque a me era passata inosservata perché non sono una persona che va molto al cinema quindi e mi è piaciuto tantissimo questo film tra l'altro ultimamente sono andata al cinema vedere limonov e mi è piaciuta talmente tanto l'esperienza di vivere il film al cinema che mi è quasi venuta voglia di tornarci più spesso perché come vi dico spesso io registro sul mio decore sky un sacco di film che poi non vedo mai infatti ho ancora credo visto forse 20 minuti del film della cortellesi ecco io guardo dieci minuti poi devo interrompere non so perché non riesco a vederlo per intero e non so se anche voi capita però l'esperienza cinematografica e in questo caso mi chiama molto di più e poi mi sono segnata anche emily in paris che in realtà sto guardando ma soltanto perché è girata a parigi perché mi sembra ormai la trama un po una minestra riscaldata quindi lo guardo solo perché a queste meravigliose immagini di parigi insomma di questi scorci parigini meravigliosi che mi fanno sempre sognare la lettura preferita dell'estate e qui diventa un po complicato perché ci sono state parecchie belle letture che ho fatto e anche per perché mi hanno dato emozioni diverse alcune più cerebrali perché ho apprezzato magari lo stile di scrittura la suspense e alcune molto più emozionali perché mi hanno toccato il cuore quindi è davvero difficile decidere però mi sento di nominare il canto del profeta di paul lynch di cui vi ho parlato abbastanza recentemente credo fosse una lettura di luglio ultimamente ho appena finito il quaderno proibito di alba de saspedes di questo non vi ho ancora parlato ma una lettura davvero impattante quindi ve ne parlerò a breve non voglio dare nessun spoiler anche perché era una lettura condivisa con un canale instagram e dovremmo fare il post contemporaneamente con mary quindi non non dico ancora nulla e poi ovviamente un libro che non ho ancora terminato ma che mi sto godendo in modo molto molto lento ed è un gentiluomo a mosca che ha un linguaggio davvero sofisticato e non voglio veramente leggerlo troppo di fretta proprio per assaporare questo stile di scrittura un po alla dickens ecco mi ha ricordato proprio questa ricchezza di particolari ma belli cioè coinvolgenti che non sono troppi come magari a volte mi capita di sentire in un libro ci sono troppi particolari che non aggiungono nulla alla storia invece ogni particolare arricchisce le pagine di un gentiluomo a mosca e quindi è quasi come mangiare qualcosa di delizioso che lo mangi proprio piano piano perché non vuoi che finisca queste sono state diciamo alcune delle bellissime letture che ho fatto questa estate allora la prossima domanda mi chiede di scegliere una vacanza un weekend o un getaway preferito io sono stata negli stati uniti e per la prima volta anche ho visitato la north carolina che non avevo mai visto e nonostante il caldo tropicale l'umidità e i pochi giorni vissuti lì devo dire che ho dei bellissimi ricordi i posti sono stupendi un sacco di verde tutto tenuto bene pulito ordinato mi ha veramente conquistata la north carolina e spero anche di tornare in un periodo che non faccia così tanto caldo per poter guardare visitare molti altri luoghi del territorio tra i prossimi preferiti anche la scoperta youtube di stagione anche in questo caso devo fare un appunto su un canale che avrei voluto nominare in primavera ma non riuscivo a trovarlo caro moreno te l'avevo già detto anche in un messaggio e non lo trovavo tra i miei iscritti perché cercavo il canale moreno pensavo si chiamasse moreno qualcosa il canale invece il suo canale ho scoperto che si chiama letture e recensioni grazie al fatto che moreno mi ha scritto in un commento sul mio video e finalmente l'ho ritrovato perché non appariva nemmeno tra i canali a cui sono iscritta ed ero iscritta però non usciva misteriosamente non lo so perché adesso attivato la campanella così insomma non lo perdo più e la particolarità del canale di moreno è che lui dedica un video ad un libro non come tantissimi noi booktubers parliamo di tantissimi libri in un solo video ecco lui si concentra su un libro che ha letto e lo sviscera proprio bene bene quindi mi piace proprio questo suo modo insomma di interpretare la sua piattaforma e poi devo nominare altri due nuovi canali con cui mi sono collegata in questo periodo ed è iris una mia co regionale e il suo canale è un po di leggerezza con iris e poi simona di una tipa da libri sono molto carini tutti e due i canali quindi vi invito a visitarli e a supportarli il prossimo preferito l'acquisto preferito e questo è un acquisto americano perché ovviamente anche in questo caso parliamo di libri ma non di libri libri soltanto di una borsa una tote bag che ho comprato in quel di berkeley in california e dice it's not hoarding if it's books quindi l'acquisto compulsivo non riguarda assolutamente i libri continuate a comprare libri e a collezionarli assolutamente questa mi piaceva troppo e non ho potuto resistere la frase motivazionale preferita adesso devo andare a prendere il libro in cui l'ho trovata questa volta e non su instagram e poi ve la dico non c'è una volta che mi dimentico qualcosa è una frase dal libro di memoria di una ragazza per bene di simone de bouvoir tra l'altro sabato prossimo vedrete il video di questa lettura condivisa che ho fatto con alessia di alessia libri e ci siamo anche molto divertite pensando a questa frase che un po ironizza e ci dà un po di leggerezza rispetto dei dei momenti magari anche un po tragici e il contesto è ovviamente lei sempre molto in bilico emotivamente tra l'essere super contenta ed essere invece molto insicura di sé e quindi anche dal sfogo a queste insicurezze con con i pianti eccetera e lei cita una frase del poeta tedesco heine e dice quali che siano le lacrime che si piangono si finisce sempre per soffiarsi il naso a me ha fatto ridere questa frase non lo so perché veramente mette un po tutto in prospettiva no e ho voluto scegliere anche questa citazione anche perché una di quelle che mi sono dimenticata di citare nelle tante citazioni che ho fatto dal libro perché insomma si vede che mi è piaciuto parecchio e quindi vi aspetto sabato per entrare nel mondo di simone di bouvoir non mancate il prossimo preferito il video che hai amato più fare allora io devo dire la verità i video che io amo più fare sono probabilmente le tbr perché c'è questa anticipazione questa gioia nel approcciarsi appunto a dei titoli che non vedi l'ora di leggere quindi ogni mese è proprio una festa però insomma eleggo un video magari un po più complesso e mi è piaciuto anche molto fare mettere insieme il primo blog che ho fatto dalla california perché comunque ho accumulato tante belle memorie il il trasloco che abbiamo fatto nella casa nuova il vedere dei posti del cuore potete ritornare al jet london historical park insomma un mare di belle emozioni e di belle letture e quindi vi posso suggerire di vederlo se non l'avete ancora visto invece il video preferito del canale di stefania ultimamente lei ha fatto un video dedicato ai finalisti ai tre finalisti del premio booktube italia ovviamente stiamo parlando di libri e quindi lei ha letto la casa del mago di emanuele trevi e la ricreazione finita di dario ferrari e anche la sindrome di rebelson di giuseppe 40 e ve ne parla a me è piaciuto molto il suo video perché in realtà mi ha fatto anche un po' ingolosire nelle mie prossime letture perché io di questi tre libri ho letto finora solo il libro di trevi ma dovrò leggerli gli altri due perché gocce di libri è uno dei canali che parteciperà alla votazione finale essendo anch'io parte appunto del gruppo del premio booktube italia e sono ansiosa di leggerli questi titoli e anche uno di questi per cui non era proprio così entusiasta ecco lei mi ha fatto venire proprio la curiosità di leggerlo adesso la fotografia preferita dell'estate allora sicuramente questa di me che sono al museo della nord carolina della storia della nord carolina mi piace anche perché molto colorata e ho un bel sorriso sono felice perché anche stavo anche in buona compagnia appunto avendo appena conosciuto i cugini del mio compagno quindi è stata proprio una bella giornata e quindi ho dei bei ricordi guardando quella foto la prossima domanda l'argomento a cui ti sei appassionata allora io ero negli stati uniti in quel periodo in cui si parlava molto se il presidente biden si dovesse ricandidare per le prossime elezioni o meno io anche il passaporto americano perché ci ho vissuto 15 anni quindi mi preme abbastanza il capire che fine faremo e soprattutto mi preme che trampa vinca le elezioni quindi con il mio compagno gli amici eccetera si discuteva molto su chi potrebbe prendere il suo posto mai avrei pensato che poi in realtà kamala harris facesse questo esplora perché in realtà durante i quattro anni quasi di presidenza di biden non se ne è mai sentito troppo parlare di lei però vi voglio raccontare un fatto su kamala harris perché io l'ho incontrata lavoravo a san francisco mi avevano chiamato per fotografare un evento di beneficenza perché ho fatto anche la fotografa per 15 anni negli stati uniti e faceva un po di tutto matrimoni ritratti e anche eventi musicali eccetera e appunto anche queste serate di beneficenza che vanno tanto nella sinicone valley e a questa serata avrebbero partecipato delle donne molto importanti politiche e non di san francisco tra le quali proprio kamala harris io non sapevo granché perché insomma lavoravo lì ma non è che mi interessavo proprio della città di per sé perché proprio non abitavo in città particolarmente tipo una mezz'oretta sud e quindi va bene non mi interessava moltissimo di politica a quell'epoca però ovviamente ero stata istruita questa è la signora questa è la prosecutor questo è il di e insomma tutti questi particolari insomma per cui dovevo trattare queste signore con grande rispetto educazione ma ovviamente quello lo si fa con tutti quando si lavora giusto e anche non e quindi ho dovuto fare questo ritratto di gruppo a tutte queste eminenti signore e quando ho sciolto il gruppo ho detto ok abbiamo abbastanza foto e non ho più bisogno di voi le ho ringraziate kamala harris è stata l'unica che è venuta vicino a me e mi ha ringraziato e mi ha stretto la mano e ho detto cavolo mi sono talmente sorpresa per la gentilezza che mi ha riservato perché in realtà non era obbligata a farlo non mi è mai capitato e quando devo fare delle foto di gruppo in determinati ambienti poi la gente viene via ringraziarmi faccio il mio mestiere quindi niente di strano invece ma quella gentilezza mi ha veramente lasciata con una bella sensazione quindi questo ti fa capire che lei veramente ha molto riguardo per gli altri e credo che che sia anche molto onesta nella sua filosofia di vita ma anche di politico quindi insomma auguroni a kamala vedremo un po come va quest'anno chiudiamo con i buoni propositi per l'autunno e questa volta sono dei buoni propositi librosi perché ho voglia di leggere i libri che ho qui nella mia libreria a casa e purtroppo invece sono sempre un po legata ai noleggi della biblioteca quindi mi sono imposta di non avere più di tre prenotazioni alla volta sul mio sito della biblioteca locale e quanto vedo un titolo che mi piacerebbe prenotare visto che in realtà adesso ne ho quattro ma perché su uno sono tipo ventesi ma quindi ci vorranno i mesi prima che arrivi e diciamo che l'ho messo in lista da leggere perché ci sono determinati scaffali su cui si possono catalogare i libri online e quindi sto cercando veramente di frenarmi per poter avere almeno un 50 per di libri che ho in libreria da mettere nella mia tbr ed eventualmente altri libri che arrivano magari qualche titolo che proprio non posso registrare di prendere quando li trovo nello scaffale delle novità oppure i libri che leggo con il gruppo lettura della biblioteca e vedere un pochino mi piacerebbe smaltire le letture che ho a casa perché è impossibile continuare a comprare libri che poi non vanno letti quindi questo è il mio proposito per l'autunno che sto comunque già implementando perché già ad agosto ho fatto alcune letture di libri che avevo a casa quindi insomma credo di essere sulla buona strada e ci vuole tanta buona volontà perché ogni volta che si va in biblioteca è una grandissima grandissima tentazione bene amici siamo arrivati alla fine anche di questo video io spero vi siate divertiti e se volete rispondere a qualche domanda con i vostri preferiti dell'estate lasciatemi un commento e tra l'altro volevo ricordare a chi ha intenzione di essere al portenone legge lasciatemi un commento ci mettiamo in contatto in qualche modo perché io sabato 21 sarò presente non ho ancora ben deciso a quali appuntamenti andare perché ci sono molte cose in contemporanea per le ore 15 ma sicuramente alle 18 cercherò di entrare a vedere la anafisi al teatro verdi mi pare che sia e quindi sarebbe carino trovarci se vi fa piacere magari mi potete scrivere su instagram a gocce.di.libri trovate anche il link diretto nell'info box e nell'info box ancora vi raccomando di guardare anche il video di Stefania sul suo canale voglio saperlo ringrazio Stefania per la simpatica collaborazione come sempre è sempre bello anche scambiarci i vocali quando parliamo anche di altre cose nella nostra vita di booktubers e altro è sempre un piacere chiacchierare con lei è un piacere chiacchierare con voi quindi scrivetemi vi aspetto nei commenti sabato prossimo vi ricordo ancora il video dedicato a memoria di una ragazza per bene di Simone de Beauvoir a presto amici buone letture